E poi arriva qualcuno e dice, datemi la vostra malattia, datemi le vostre preoccupazioni e sofferenze, non potete farcela da soli. Queste sono parole di liberazione per antonomasia. Questa è una cosa che ho imparato e anche percepito nel corso degli anni. È molto meglio vivere la vita con una coscienza pulita piuttosto che con una sporca. Una coscienza pulita è il miglior cuscino su cui riposare. Quando si fa qualcosa più e più volte, non ci si accorge neppure che sia diventato un peso. Ci si abitua e non lo si percepisce più, ma comunque sta lì. Non si vuole mentire a nessuno, ma ogni tanto si dice una piccola bugia innocente. Non fa male e non danneggia nessuno. Allora, quanti anni hai? E così si dice di averne due di meno. Dopo tante piccole bugie, in sostanza, cosa è stato detto di vero? No, non era la verità, perciò era una bugia. Non è una bugia. Non è una bugia. Non importa se è piccola o grande. Era una bugia. Hai portato via qualcosa adesso? Hai rubato qualcosa? Piccola o grande che sia, hai rubato. Hai portato via all'altro qualcosa che non ti appartiene? Ma quando, passo dopo passo, si conosce sempre più l'insegnamento di Bruno Gröning, lo si interiorizza e viene il desiderio di percorrere la via divina e di andare verso l'alto. Si arriva poi a un punto in cui ci si rende conto di quanto non si è ancora in sintonia con l'insegnamento. Come anche la gelosia, il sentirsi sempre gelosi di qualcun altro non è più accettabile. Ma come si fa a liberarsene? Come si smette di mentire? Come si smette di rubare? Come si smette di essere gelosi? Come si smette di essere invidiosi? Come si possono abbandonare anche tanti altri difetti di cui si sa perfettamente che ci impediscono di progredire? Come si fa a mandarli via? Cari amici, chiedete, chiedete e chiedete sempre. E poi vi ritroverete in situazioni in cui potrete riuscire a liberarvi da tutto ciò. Quindi posso solo consigliare a tutti, se vi rendete conto di avere qualcosa di questo tipo e dalla vita ricevete dei segnali che non dovreste più farlo, allora agite al più presto per liberarvi e così potrete fare il passo successivo. Solo così, cari amici, si diventa liberi. Libertà non significa che ho soldi infiniti, che posso fare e non fare ciò che voglio, che sono il padrone di me stesso, che sono indipendente, che non ho un capo. Tutto questo non è libertà. È molto importante mettere ordine nella propria vita rispetto a ciò che è stato fatto in passato. È importante perdonare, ripulire la coscienza, stare in armonia con le persone. Vedo sempre questo carro che ci tiriamo dietro, un carro da vuoi, e tutto ciò che ci capita nella vita e non ci piace, per non vederlo lo buttiamo dietro le spalle. E tutto ciò che ci siamo in vita, ciò che non vogliamo fare, riusciamo da un po' e lo spaventiamo dietro. Ma l'interessante è che abbiamo un carro da dietro. Ma la cosa interessante è che lì dietro abbiamo un carro e tutto ciò che buttiamo alle spalle ci finisce dentro e ce lo tiriamo dietro per tutta la vita. Quando si vedono alcune persone trascinare i loro carri per tutta la vita, che fatica. Sorridi ogni tanto. Non riesco a sorridere. Oh, è così pesante. Perché è tutto lì dietro. Qualcuno si ferma. E qualcun altro, quando c'è una salita, viene trascinato indietro. Questo è il nostro compito, cari amici, suotare completamente il carro là dietro. Quando mia madre arrivò da Bruno Gröning a suo tempo, pensate che sia arrivata lì e tutto andasse bene? No. Lei arrivò piena di pesi. Tre malattie inguaribili, preoccupazioni, difficoltà. La sua vita non era allegra. E poi arriva qualcuno e dice, datemi la vostra malattia. Datemi le vostre preoccupazioni e sofferenze. Non potete farcela da solo. Ma dovete darmele volontariamente, perché io non rubo niente. Cari amici, queste sono le parole di salvezza per antonomasia. Chiunque può accettare questa offerta in qualsiasi momento e queste parole valgono ancora oggi. Bruno Gröning è pronto a prendere. Il nostro compito è dire, sì, non lo voglio più. E se prende tutto quello che ho fatto di sbagliato nella vita, allora sì, prendi tutto e basta. E così non ho più pesi. Allora il carro è tirato a lucido. Non c'è più nulla dentro. Ed un tratto, la sensazione. Ah, che leggerezza. Che sensazione nuova. Sì, sono sparite cinque tonnellate dal carro. E questo è tutto, cari amici. E per questo date grande importanza all'essere liberi, all'essere puliti, a non avere più pesi. E se ancora oggi dite, c'è ancora questo e quello e quell'altro ancora, metto insieme i punti che ancora continuano a pesarmi, che riemergono, che fanno blup, in continuazione mi tengono occupato ancora e ancora. Allora, prendete la decisione di fare pulizia. E quando fate qualcosa, domandatevi sempre se sia buona o cattiva. Se è cattiva, certamente mi peserà. E questo non lo voglio, perché non voglio avere un peso del genere. E allora sono libero. E voi potete fare lo stesso. E allora sono libero. E voi potete fare lo stesso. E voi potete fare lo stesso.